In battuta Candy, la ricezione errata di Buccia e Unis per Sonia Candy. Altra possibilità per Montichiari, Lualdi per Gioli. Ancora una difesa questa volta di Segura. La palla tornerà di là per la quarta free ball consecutiva. Gioli tocco morbido, la difesa di Albrecht. Poi Candy, l'accelerazione di Stefania Dalligna.